Ben ritrovati, questa volta la puntata di A Tutto Handball la facciamo dallo studio, poi per problemi vari torneremo a farlo con i collegamenti in diretta su StreamYard durante la settimana, poi mi assenterò per un piccolo periodo e vedrò come poter ovviare al problema. Ben ritrovati da Stefano Ballerini dal canale 96 di Tele Firenze Viola Supersport, grazie a Enrico Milano che mi segue in regia e allora la nostra puntata settimanale che purtroppo vedrà la sconfitta sia pur di pochissimo del Tavarnele battuto in casa dal Teramo a Ponta Sevala Balducci 28 a 26 ma ci arriveremo. Si apre con le notizie dagli avvenimenti europei, European Cup, Brixen o Bressanone ormai lo sappiamo, centra la rimonta ed elimina Sassari al primo turno, è un episodio a decidere in favore del Brixen il primo turno in European Cup, l'inedito derby italiano contro il Raimund Sassari. Gli altotesini vincono 29 a 20, primo tempo 13-12 e ribaltano la sconfitta di 5, 29-24. Centrando così il passaggio del turno, la squadra allenata da Davor Cutura raggiunge Conversano e Junior Fasano al secondo round dove incrocerà i cosiddetti Guantoni con i serbi del Boi Bodina. Allora ricordo le due partite, l'andata di torno, Sassari-Brixen 29-24 il ritorno, Brixen-Sassari 29 a 20, limato il differenziale e dunque Brixen passa il turno. Andiamo a vedere invece quelli che sono i risultati della Uno Gold dove si è concluso il turno con il pareggio al Cardiopalma tra Campus Italia e Cassano Magnago e da dove attingiamo da fig.it che ringrazio le immagini. La partita la vedrete successivamente a questa emissione. La terza giornata in Serie A Gold ha un acuto domenicale il pari tra il Campus Italia, la nazionale Under 21 che saggiamente la federazione dall'anno scorso ha traslato direttamente nel campionato di Serie A 1 per far crescere i giovanissimi ragazzi e per far crescere pareteticamente le scienze italiane in campo europeo. alla casa della palla a mano di Chieti, il finale è dunque 29-29, primo tempo 13-16 giunto per mano di un tir su tiro franco a tempo scaduto, firmato Manojovic, ritmi alti, tanta corsa, tante giocate, livello pregevole che fanno del match giocato in terra abruzzese, ovviamente attingo dal link di fig.it che ringrazio. un confronto più che godibile, primo pari del Campus Italia arriva nel momento più difficile al massimo vantaggio dei castanesi 25-20, Amaranto al cinquantesimo annullato da un contro break 5-0 finalizzato da Valentino Dello Vicario. Allora, i risultati in A1 Gold Albatro, Fasano 26-33 Carpi, Pressano 22-29 Banca Popolare Fondi, Merano 33-33 Conversano, Bozzano 33-30 Come detto, Campus Italia, Cassano Magnago 29-29 Mercoledì domani si giocheranno Romagna-Brixian alle 19-30 Martedì 18 ottobre, traslato di una settimana verrà recuperata la partita Secchia Rubiera-Sassari alle ore 20-30 Dunque vi aggiorniamo una classifica che ha ovviamente delle gare da recuperare Conversano 6 Junior Fasano 4 Bolzano 4 Pressano 4 Albatro 4 Per cui bell'inizio di campionato di Albatro dopo i disastri dell'anno scorso Merano 3 Cassano Magnago 3 Brixen 2 Due gare da recuperare Sassari 2 Due gare da recuperare Banca Popolare Fondi Una da recuperare Campus Italia 1 Secchia Rubiera 0 Una da recuperare Romagna 0 Una da recuperare Carpi 0 Per cui questa è la situazione in A1 Golda Andiamo a vedere invece quello che è la risultanza del secondo turno Della 1 femminile Dove vi dico buone notizie che continuano ad arrivare da Prato Dove la Tusce Allora andiamo ad aprire il Allora andiamo andiamo ad aprire le risultanze della seconda giornata Brixen su Tirol Mezzo Corona 36 27 Cassano Magnago Salerno Iomi 27 Erice Alibeste Espresso Mestrino 27 20 Teramo Pontinia 21 34 Casa Grande Padana Ferrara 35 24 Bella Bellissima Importantissima la vittoria di Tusce Prato Sul Cellini Padova di cui siamo anche nella possibilità di darvi il tabellino Allora per quanto riguarda il Cellini Padova per dovere di ospitalità di un primo tempo finito 15-19 Patavine in vantaggio al termine della prima mezz'ora Cellini che ha schierato Allora Ivana Diogap Carel Nondem Diogap Due gol Elmer Zero Eguiruva Osimen Osaremen Tre Cognomi difficilissimi Otto La Seconda Diogap Vanessa Diogap Otto La Brock Zero Meneghini Quattro Arubi Zero Uno Di Prela Zero per la seconda delle sorelle in Ghiaruba Serena Osa Megbe Zero per Ocorie Zero per Ena Buele Sonia Osa Soge Zero per Annalana Emoser Ci sono in fondo Sei gol di Micaela Agustina Barresi Andiamo invece in casa Laniera Laniera Che dunque ha dovuto soffrire Nella prima mezz'ora Poi le ragazze Hanno preso a girare a pieni giri E si sono aggiudicati la gara Micotti Zero Micotti Rebecca Zero Micotti Martina Quattro Cinque Di Margherita Rossi Zero Di Melissa Gurra Quattro Beatrice Borrini Zero Della Maggiora Zero Nicolai Zero Sandroni Zero Labarbieri Zero Alessia Benelli Undici Di Iamu Charity Osaneie Ancora in doppia cifra Dopo i 14 Della prima giornata Viola Rossi Zero Giulia Martinelli Tre Ucchino Quattro Zero Per la Felè E zero Per la Bartalucci Allenatore Il signor Maurizio Rossi Per quello che riguarda I tiri liberi Per Prato Tre su cinque Per gli avversari Della Team Laniero Il Cellini Il computo È il cinquanta Per cento Tre su sei Dalla piazzola Dei sette metri Allora Questo è Le buone note Dunque Di un match Arbitrato Da Bertino E Bozzanga Prato fa Due più due Che fa sempre quattro Due partite di campionato Per le neopromosse Laniere E ci sono Quattro punti Che vuole dire La In testa Alla Classifica Perché Andiamo a vedere Quello che è La risultanza Dopo Le prime due gare Su Tirol Brixen Giovi Salerno Erice Tusce Prato Attenzione Quattro punti Ricordo il campionato Neppanamani Esprime Vittoria due Pareggio uno Sconfitta zero A due punti Cellini Padova Pontinia Cassano Magnago Casa Grande Padana A zero Alibeste Espresso Mestrino Mezzo Corona Che aveva perso La prima gara in casa Battuta appunto Dal Tusce Tanto a poco Ferrara E Teramo Hanno Zero Punti Andiamo a vedere Invece Quelli che sono I risultati Della serie A due Il girone B Che è quello che interessa Le squadre Toscana Le due Tavarnelle E Prato Che purtroppo Stanno ancora viaggiando A zero punti Dopo tre giornate Allora andiamo a vedere I risultati Dunque 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 Qui ho tastierato male Il Il girone Cosa ho messo A due Girone B A due Girone B Assolutissimamente Sì Prima giornata Seconda giornata Terza giornata Eccola qua Allora i risultati Verde Azzurro Cingoli Verde Azzurro Sassari Cingoli 25 35 Cingoli Vince di 10 In trasferta Ferrara Prato Purtroppo non ce n'è 33 a 13 Allora qui andiamo a aprire Pure La schermata Di Ferrara Prato Ferrara Meletti Tonello 1 Zaltron 2 4 di Pedron 6 di Mazzucchi 0 per Rossi Michele 8 Filippo Pasini 0 per Stagni 0 per Montanari 7 per Ianni 0 per Matà 0 Massari 0 per Lentini Saletti 2 Baldo 2 Un gol di Marchesino Allenatore Luis Fernando Capurro 4 su 2 2 su 4 I tiri dai 7 metri Dei rigori Mentre Prato Porta Messeri Morini Licese Simoni 3 di Scrivo 3 di Franca Lanci 3 di Balò 0 purtroppo di Pucri 1 di Chirivi 0 di Giovannelli 2 di Pozzi 1 di Messeri 0 per Alberto Fratini La dice lunga 0 per Biagiotti 0 per Mocellin 0 per Pasquini Carolina Masi il tecnico con la risultanza dei tiri dai 7 metri Maluccio 1 su 4 per cui questo è il rendiconto di Prato Monte Prandone Pantadea Italia Modena 27 37 Tavarnelle Teramo purtroppo 26 28 Allora preparo innanzitutto il commento che mi è arrivato sulla mia linea telefonica allora andiamo intanto a vedere il tabellino poi vi leggiamo la cronaca e le dichiarazioni con il purtroppo la sconfitta con due soli gol da parte del Tavarnelle Edoardo Borgiani 3 e questa la dice lunghissima 3 di Vermigli Bucci Ciani Mattia che segna un gol Cavuoti 0 Picciardo 4 Sing 2 3 di Leonardo Del Mastio benissimo nella sua estrema gioventù un gol di Magnani un gol di Tommasino Borgiani il fratellino di Edoardo poi Vanni in porta 3 gol di Andrea Calosi 1 di Lorenzo Calosi rientrava a Valvarito 2 gol per lui 2 gol di Silei Vermigli Pelacchi e Silei in panca primo tempo 13 12 Tavarnelle già poteva voler dire qualcosa queste le immagini purtroppo poi finisce 26 28 perché perché vado a legge il tabellino di Teramo Sprattoni 0 di Battista 1 la decide Simone Angeloni 9 insieme a Paolo Toppi che ne sigla 11 in 2 ne fanno 20 1 di Cinelli 2 di Dargenio 2 di Michini 0 a Dazzi 0 Ciutti di Salvo 0 un gol di Barbuti 0 per Cialini un gol di Flammini e 0 di Reginaldi allenatore signor Franco di Giacinto con Tavarnelle alla Balducci 1 su 3 dal tiro dai 7 metri 1 su 1 per il Teramo niente da fare vi leggo il comunicato mi è arrivato dall'ufficio stampa del Tavarnelle la palla a mano Tavarnelle esce sconfitta anche nella terza giornata dal campo di Ponta a Sieve contro un Teramo che nella seconda parte di gara è sembrato più lucido e incisivo del team locale eppure la gara si era messa anche bene per i neopromossi il Tavarnelle dopo un primo tempo equilibrato dove i locali andavano anche avanti di più 3 ma venivano puntualmente ripresi nel secondo tempo pur ripeto essendo andati all'introduzione della prima mezz'ora in vantaggio 13-12 nel secondo tempo dopo 15 minuti Tavarnelle sembrava poter condurre la gara con addirittura un parziale di più 4 che faceva sperare tutti invece Teramo con la forza dei propri terzini tiratori non demordeva raggiungeva il pareggio e si portava avanti ribaltando l'esito della partita i locali forzavano troppo Tavarnelle forzava troppo al tiro subendo invece golle e tiri semplici sono amareggiato il commento di coach Pelacchi a fine partita non capisco questi blackout che sistematicamente come avevo detto lo scorso weekend abbiamo pagato oggi ritengo che abbiamo giocato al di sotto del nostro potenziale un vero peccato perché era importante in questa partita per come è stata poter far punti tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità ha detto e concluso Pelacchi io primo ad analizzare bene gli errori e ripartire prossimo impegno in trasferta dico io in terra di Marche contro il Chiara Valle e allora purtroppo questo è quello che ne deriva da il match di Ponta Serra alla Balducci poi San Lazzaro colpo in Parma 35-26 avevamo perso 29-23 a Parma Bologna United e Camerano 25-31 Pescara Chiaravalle 18-28 Chiaravalle che vince di 10 e sarà il nostro prossimo avversario Ferrara Cingoli San Lazzaro 85-6 Camerano Parma Chiaravalle 4 Teramo 3 Modena Verdeazzurro Sassa di 2 Pescara 1 il quartetto in fondo purtroppo dice di Tavarnelle Monte Prandone Prato a 0 Bologna United che aveva iniziato con una penalizzazione ha vinto una partita e ha meno 1 e dunque deve cominciare a pensare di scavallare e tornare in zona positiva allora questo è il punto della situazione alla terzo turno del campionato di A2 dopo che vi abbiamo raccontato quello che è successo in A1 Gold quello che è successo di Bellissimo in Casa Prato do mandato Enrico Milano di controllare se in caso Facebook Tusce Prato ci fosse per caso qualche intervista qualche cosa delle ragazze pratesi 2 su 2 che fa 4 con la testa Enrico Milano mi dice che non attualmente oggi stiamo registrando lunedì 19 settembre 12.38 il timing non ci sia niente per cui io vi saluto e vi ringrazio dalla redazione del Canario 96 per la puntata settimanale di A2 embole ci ritroviamo martedì prossimo per i prossimi appuntamenti ringrazio l'amico in regia Enrico Milano per l'assistenza tecnica vi lasciamo le immagini della partita della Casa Italia della Palamano di Chieti che potrete vedere per esteso grazie ovviamente a fig.it che ci autorizza in registrata a mandare tutti i contenuti della fig.it auguri alla pattuglia azzurra grazie a tutti l'appuntamento è per martedì prossimo solita ora ogni martedì alle ore 18 minuto più minuto meno